Ora Giorgia ti faccio vedere che anche io sono bravo a salir dallo scivolo dalla parte dove si scivola Eeeh tre Giorgina è ora di fare il bagno Babbo ho sei anni ce la faccio da sola a farmi il bagno Babbo ora tocca a te qua c'è il forno e qua c'è la piastra Sulla testa Prendo la ciocchia, metto questo così, tiro, spingo Babbo cosa è successo? Ah niente Giorgia non ti preoccupare Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo video Sarà un video un po' particolare perché oggi mi dovrò occupare della Giorgia Perché? Perché la mamma non c'è e quindi siamo io e Giorgia da soli Però io non so che cosa gli fa fare la mamma e poi mi dice perché in genere sono al lavoro Giorgia mi dai una mano per favore? Dimmi un po' quando torni dalla scuola la mamma che ti fa fare? Io quando torno dalla scuola la mamma mi porta sempre fuori a giocare Dopo c'è la doccia perché dopo la doccia c'è la cena e poi devo andare a dormire Ok quindi bisogna che io ti porti fuori a giocare Sì Vabbè questo è semplice ragazzi e che ci vuole? Con che cosa vuoi giocare? Con il monopattio o con la bicicletta? Con la bicicletta Ok allora facciamo così, ti porto fuori perché tanto vicino a casa nostra c'è anche il parco Quindi andiamo un po' a giocare a parco Sì Adesso vuole tanto fare l'altalena E vai vediamo, ti riesci a farla Giorgia? Guarda che sono brava papo Ma sei bravissima, ma riesci a farla anche inza spinta? Sì papo Aiuto 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 adesso volo Attento Giorgia perché se lasci le mani fa una taccata a pulso, ti ritroverò a casa Papo Dimmi Giorgia Ma tu ci riesci a salire dalla parte in dove si scivola? Con i piedi dici? Sì e anche con le mani Ragazzi da piccolo facevo sempre, cioè di salire dallo scivolo dalla parte della salita Non dalle scale, è la cosa più divertente Non so se lo fate anche voi, se lo fate scrivete nei commenti Ora Giorgia mi ha messo alla prova, ci voglio provare Ora Giorgia ti faccio vedere che anche io sono bravo a salire dallo scivolo dalla parte dove si scivola È facilissimo Aspetta che prendo la rincorsa, da piccolo lo facevo sempre Uno, due e tre Aspetta che ci riprovo Uno, due e tre Aiuto Mi arrendo Giorgia è circa un'ora e mezzo che stai giocando qui al parco Io direi che è ora di andare a casa e ci si prepara per la serata Perché comincia a fare buio, quindi c'è da fare il bagno E questa cosa mi preoccupa un po' Perché ci pensa sempre la mamma a fare queste cose Ragazzi c'è Giorgia che ancora non è salita sulla bicicletta Siccome lei ogni volta quando va a casa e mi lascia da solo Ora lei è ancora lì che sta salendo sulla bicicletta Ora che faccio corro, così arrivo prima io a casa Arrivo Arrivo, arrivo io Mi sta raggiungendo ragazzi Vado, vado Non vale così però Mi trovi, mi aspettate Ce la faccio Mi ha superato ragazzi Basta, mi arrendo Ciao ciao papà Ci vediamo a casa Siamo tornati dal parco E adesso ragazzi è arrivato il momento difficile Cioè fare il bagno alla Giorgia In realtà ci pensa sempre la mamma A fargli il bagno e tutto il resto Ma oggi Ragazzi ma voi il bagno chi ve lo fa? La mamma o il papà? O lo fate anche da soli? Scrivetevi nei commenti Giorgina è ora di fare il bagno Anche se sono un po' preoccupato Perché non te l'ho mai fatto io il bagno Quindi non saprei neanche come fartelo Babbo ho sei anni Ce la faccio da sola a farmi il bagno Meno male Che sollievo Però babbo la mamma mi ha detto anche di lavarmi i capelli I capelli me li lavo io Però dopo tu mi devi asciugare i capelli Passarmi la piastra E farmi i capelli lisci Avete sentito ragazzi Gli devo asciugare i capelli col phon E passare addirittura la piastra per fargli i capelli lisci Ma io non so neanche in che lingua sta parlando Io non so come si fanno queste cose Io non ho neanche i capelli Io la mattina mi sveglio Mi lavo la faccia e già sono pronto Uffa Io ci proverò Non so il risultato finale Salvo Giorgia Uaaaa Io sono Salvo E io sono Giorgia Come avete visto all'inizio del video Babbo Salvo dovrà sostituire la mamma Cioè Fammi il bagnetto Asciugarmi i capelli con il phon E passarmi la piastra Facendomi i capelli molto lisci Ci riuscirò? Continuate a guardare il video Ma prima iscrivetevi al canale Attivate la campanella E lasciateci un bel like Ho preparato La mia staglia Il pijama Le mutandine E i calzini Perché se aspettava il babbo Si faceva notte Babbo vado a farmi la doccia Ok Giorgia Quando hai fatto chiamami Giorgia è da 15 minuti che sta dentro la doccia Giorgia Che c'è? Ma quanto ti ci vuole ancora? Staggia ancora qualche minuto E ho finito Ok Babbo ho fatto Mi devi asciugare i capelli Babbo Ora tocca a te Qua c'è il phon E qua c'è la piastra Ok Giorgia Farò del mio meglio Diamo una bella pettinata Mamma mia Giorgia ma c'è il nodo ai capelli Lo so Grazie ma è difficilissimo Ma è facilissimo ragazzi Ma che ci vuole? Guarda qui Basta fare così Si asciugano su Babbo Dimmi Non staresti dicendo niente No scusa Sulla testa Oh vediamo vediamo Io non potrei andare a scuola in questo modo No eh Mi devi passare la piastra Ma perché non vanno bene così? Guardate che capelli che vi ho fatto ragazzi Guardate Vi ho fatto belli mossi In realtà a me li avresti fatto tipo un limone Ti ho passato la piastra? Si Speriamo bene Giorgia Giorgia è già pronta Posso iniziarti a farti i capelli con la piastra Aspetta Babbo Ma tu la sai passare la piastra? Ma che ci vuole? Prima mentre tu facevi il bagno Ho guardato un video su YouTube Ed è facilissimo Non ti preoccupare È facile Ho paura Ma di che? Che ci vuole? Guarda faccio così Prendo una ciocca Metto questo così Tiro Stringo Oh Hai visto? Che ti ci vuole? Vado eh Continuo così Esce un po' di fumo Non so perché Vediamo Perché è calda Ah Oh Babbo cosa è successo? Oh niente Giorgia Non ti preoccupare Allora perché ti sei fermato? Va bene Giorgia Non ti arrabbiare Non piangere Te l'avevo detto che io non sapevo fare i capelli con la piastra Forse te l'ho bruciata e si sto staccato Guarda come da un cuore Ma non l'ho fatto a posto Giorgia Mi stai proprio mortificando Ma io non l'ho fatto a posto Ti l'avevo detto che non sapevo farti i capelli Dai Scusami Giorgia Guardate ragazzi Ma non l'ho fatto a posto Qui guarda gli manca proprio una ciocca Qui gli manca Adesso quando arriva la mamma Se lo dico a lei Tu non mi farai più i capelli Io non ce l'avevo i capelli Non l'ho mai fatto con la piastra Scusa non l'ho fatto a posto Dai per una ciocca di capelli Dai tanto ti ricresceranno Giorgia Mi ricresceranno affatto No dai Giorgia Sì che ti ricrescono Magari ci vorrà del tempo Ma ti ricrescono eh Ragazzi per oggi il video è terminato Non è andata come pensavo io I babbo facendomi la piastra Gli ho tolto una ciocca di capelli E ora per qualche settimana Rimarrò con un buco sulla testa Ragazzi che dite Aspettiamo che quella ciocca Gli ricresca di nuovo O domani la porto dal parrucchiere E glieli faccio dagli ari corti Scrivetelo nei commenti Mi raccomando ragazzi Se questo video vi è piaciuto Lasciateci un bel like E iscrivetevi al canale E noi come sempre Vi salutiamo con un grande Uauuuu